Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, anche oggi partiamo dalla colazione, oggi mi sono sbizzarita un po', allora, qui sotto c'è il pane di segale, una fetta che vale un giallo, sopra ho messo sempre il mio ottavo di avocado, quindi mezzo blu, poi c'è il prosciutto cotto che fa un rosso e questa fettina di provola che fa l'altro mezzo blu, poi qui c'è la mela, un viola, le vitamine come sempre, qui c'è un altro viola di spremuta d'arancia fatta da me con le arance che stavano già partendo e poi qui c'è invece la tisana, quella drenante e basta, questa qui è mia colazione, adesso vado, qui ho il giornale di Mondo Convenienza e niente, adesso vado a mangiare perché ho famona, ciao! Allora, per pranzo mi sono fatta quella focaccia dell'Eurospin con dentro due uova, l'ho fatta a frittatina con un po' di cipolla in granuli e l'ho messa dentro, un po' di senape che è free e i pomodori, qui il tutto vale, un rosso, due gialli e un verde. Per merenda mangio una banana Per cena, questa sera, passato di verdura, sempre quello dell'Eurospin, con un giallo di riso, quindi due verdi di passato di verdura e un giallo di riso. Dopo cena, mangio anche una banana come frusta e poi vado a dormire perché sono stanchissima. Grazie! Grazie!